... Allora ragazzi, qui siamo in compagnia del sosia di Richard Htt Se infatti dicono che ci assomiglio molto È vero, è vero, mi assomiglia un pochì, poco La voce non è quella No, infatti, è doppiata E per quello Richard Htt ce l'ha più... C'è ragazzi! Stavo pensando che... Avevo capito che Richard Htt ce l'ha più lungo Volevo dirlo perché... Forse anche quello Come forse anche quello? Ma tu non sei mica il sosia? Di chi è di Richard Htt? E come fai a sapere che c'è l'uomo? Tra sosia? Ah beh, allora ci si unisce È tutto diverso Che cosa brutta? Che cos'è questo? È un presenze 3? Che cos'è questo video? Questo dovrebbe essere un presenze 3 Sono in presenze! Ebbene sì, ebbene sì Sono in presenza nel tuo video E perché sei qui? Dato che nessuno ti voleva I momenti di imbarazzo Qualcuno ha qualcosa da dire? Ma dove hai? È sparito Sei bellissimo Grazie Grazie Ma sai che questi secchiali stanno proprio bene così? Sì? Non credo che li abbiano disegnati per stare così Però questo è un nuovo È la moda Primavera Primavera 2012 Htt Li trovate Li trovate in tutti i negozi Lui li compra e li rivende Al triplo Al triplo ovviamente Perché vanno messi al contrario Se li metti normale Costano ancora di più Perché è una cosa innaturale Ora ogni volta devi fare un presenze Devo esserci io No Ah ok Sarebbe un po' impossibile No ma la cosa Che presenza è nato così per caso È nato per caso Ma non gliene frega niente a nessuno Ma come non gliene frega niente? Stanno guardando Ma non è vero Ma non è vero Non lo stanno guardando Lo guardano perché gli arriva una mail Senti Francamente Me la fischia Francamente lui se la fischia Io non so se me la fischio Vedremo Potremmo fare tipo Un fischio contest Sai ci sono un sacco di persone Il fischio contest Il fischio contest consiste Che c'è anche una certa Fischio contest consiste Fischio contest Dai è un allenamento Per poter dire Allora i contest sono due Dovete dire Fischio contest consiste Più velocemente No dai Se lo so in lingua Fischio contest consiste Vedi Ti sei già in pappina Scusa No Ti schiesti già perso Contiste Sì però adesso sono proprio Non è che il sole bacia è belli Mi sta proprio pomiciando È diverso Capito Noi che veniva qui pensava di stare in prima linea Invece gli ho dato il posto sfigato C'è il raggio di sole Sono più chiaro del mio solito Allora ragazzi L'avrete capito Sono qui con niente po' po' di meno Che Claudio di Biaggio Ciao ragazzi Allora oggi sono qui con Will Wush Che ha deciso di venire A fare una presenza In presenze 3 Oddio No scusate è vero è cane secco Sono uno confuso La gente si disiscriverà immediatamente Subito con disonore Con disonore Con disonore Volevo ringraziarvi intanto Per tutti i commenti Che avete lasciato nei video precedenti A cui non ho risposto Ma non è che non ho risposto Perché sono cattivo e perfido Non sei cattivo? Ah ok Non ho risposto Stronzo Non è cattivo È stronzo No non ho risposto Perché adesso il sole sta arrivando anche qui Quindi nel senso Ormai siamo Baciati Ci illuminiamo Dal sole Cos'è? Lampadina e lampadario Ci chiameremo Però Dina la femmina la fai tu Io almeno so Dario Capito? Cioè Allora questo video è un video low budget È un video low budget Perché siccome non ci abbiamo sordi Anzi se volete mandarci Questo è il nostro conto corrente Potete mandarci Ma parecchè davvero? Non lo so Devo tenci Metterò dei numeri a caso Quindi quando tu magari Se poi c'è veramente il pazzo Che vuole la cifra consigliata La cifra consigliata Sarà altissima la cifra consigliata Così subito Anzi la mettiamo bene Dov'è? Era di qua Era di qua Sì sì La prendiamo e la mettiamo bene in evidenza Questa cifra Questa è la cifra che dovete Mandarci gentilmente Comunque Sì? A parte gli scherzi Questo è un video low budget Perché siccome noi Il budget Non ce l'abbiamo Il jet Non ce l'abbiamo La parola del giorno è Zeugma Se non sapete cosa vuol dire Altrimenti cercate su Wikipedia La prossima volta Sbucciamo le cipolle 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 Grazie a tutti.